Dock nelle tue mani, terza puntata. Andrea indaga sul Satonal. Dock nelle tue mani continua a registrare record di ascolti. Anche la terza puntata promette di appassionare moltissimo il pubblico, poiché la vita sentimentale di Andrea verrà messa nuovamente a suo quadro. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Dock nelle tue mani, dove eravamo rimasti. Andrea ritrova la cartella clinica del paziente deceduto per errore. Attraverso quest'ultima il medico riesce ad avere tantissimi ricordi e comincia a ricostruire tutto quello che è successo. Fanti fa delle domande anche a Marco, il vero responsabile di quanto è accaduto e ad Agnese. Entrambi si dimostrano ben poco collaborativi e non gli svelano niente di utile. Dopo aver ritrovato un foglietto nella valigia della figlia, i ricordi di Andrea si fanno sempre più chiari. Il dottor Fanti ricorda la relazione con Giulia e va a parlare con lei, chiedendole per quale ragione sia finita. Intanto un incidente ferroviario causa grande scompiglio in ospedale e medicina interna viene trasformata in un pronto soccorso per ovviare all'assenza di spazi. Andrea inizia a comprendere che tante cose gli sono state nascoste e che anche per questo i suoi ricordi apparivano così confusi. Doc nelle tue mani, trama terza puntata, Agnese gelosa di Andrea. In ospedale arriva la sorella maggiore di Elisa. Si tratta di una donna estremamente sicura di sé e dal grandissimo fascino e non ha problemi a dire in faccia a tutti ciò che pensa. Nella vita fa l'attrice ma per quanto Elisa possa essere felice di vederla, quella presenza per lei dimostra di essere davvero troppo ingombrante. La specializzanda fa fatica ad avere sempre a che fare con la sorella e diventa sempre più scontrosa. Non può fare a meno di ammettere di essere destabilizzata dalla sua presenza e di sentirsi sempre inferiore a lei per qualche motivo. Andrea intanto continua a riflettere per cercare di recuperare tutti i suoi ricordi. Il dottor Fanti però si rende conto che ogni volta che sembra vicino a ricordare tutto si sgretola perché l'amnesia è stata così forte da impedirgli un recupero completo. Nonostante questo il medico non si arrende e si avvicina a Giulia. Quest'ultimo lo aiuta moltissimo e Agnese se ne accorge. La moglie di Andrea non può fare a meno di provare una fortissima gelosia nei suoi confronti e così si comporta con lui come se fosse offesa. Naturalmente questo non passa inosservato nemmeno agli occhi di Fanti. Doc nelle tue mani. Trama terza puntata. Andrea indaga sul Satonal. Lorenzo deve tornare a fare i conti con la sua ex e di conseguenza il forte dolore che ha sempre provato. Chiara infatti viene ricoverata a causa di un overdose e questo destabilizza tantissimo Lorenzo. Quest'ultimo deve affrontare le difficoltà sul lavoro e contemporaneamente quelle sentimentali. Intanto Marco è in preda al panico perché si rende conto che la verità è in procinto di venire a galla. Il dottore spiega infatti alla moglie che Andrea sta svolgendo delle ricerche sul famoso Satonal con grande capabilità e senza nessuna intenzione di arrendersi. Questo potrebbe fargli scoprire tutto e rovinare definitivamente Marco. Il dottor Fanti dal canto suo è perfettamente consapevole che quel farmaco è causa diretta di molti decessi che stanno avvenendo in ospedale. Gabriele intanto prende la decisione di rimanere in Italia. Si tratta di una scelta difficile e sarà altrettanto complesso rivelarlo alla sua comunità. Che cosa ne pensate? Ritenete che Andrea riuscirà a ricostruire non soltanto i suoi ricordi ma anche tutto quello che è avvenuto alle sue spalle in ospedale? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!